Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'ordine del giorno 38. De Rosa chiede di parlare. Prego, onorevole De Rosa. Sì, Presidente, io volevo chiedere una spiegazione del diniego al Governo, perché non riesco a capire veramente quale sia il motivo per bocciare quest'ordine del giorno. Non so se il Governo intende intervenire, non mi sembra, quindi lo metto in votazione, a meno che lei non intenda parlare, onorevole De Rosa. Prego, Vice Ministro. Grazie, Presidente. Si tratta di una specifica che reputiamo eccessiva da destinare alla valutazione del tavolo tecnico che dovrà concretamente poi scrivere il codice. Grazie. Intende intervenire, onorevole De Rosa? No. Metto in votazione l'ordine del giorno con il parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Ci siamo? Giordano Giancarlo, ma c'è il tecnico, di qua è a posto. Quando ha votato Giordano, chiudiamo la votazione. Bordo, Franco? Ha votato? Ok. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo ora all'ordine del giorno 39, Daga. Parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Gigli, Malisani, Lomonte, Casellato. Lomonte a posto, Casellato, Savino Sandra, Invernizzi. Invernizzi non riesce a votare. Proviamo a sbloccare? E' chiusa la votazione. La Camera respinge. 40, ho chiuto. Parere contrario del Governo. È aperta la votazione. Cassano. Baruffi, Casellato, tolga quello che c'è dentro e voti. Bene. Tripiedi ha votato. Ho visto salire. Mi pare di sì. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 41, Crippa, che chiede di intervenire. Prego, onorevole Crippa. Grazie, Presidente. Chiedo di riconsiderare il parere su questo ordine del giorno, perché non fa altro che riprendere anche le considerazioni già espresse sul tema delle certificazioni energetiche e degli attestati di certificazione energetica che hanno posto altri deputati all'interno di strumenti quali interrogazioni. La faccenda è sempre la solita. Il sistema dei controlli sulle certificazioni energetiche non è un sistema efficiente, non sta funzionando. Ci sono certificazioni energetiche che vengono vendute su Groupon a prezzi assolutamente folli, con una possibilità di portarsi a casa una certificazione energetica a 39 euro. Questo non dà soprattutto lustro dell'attività che teoricamente c'è dietro una certificazione energetica.